Super Lega Calcio a 6, siamo con Lucio Camisola, allenatore del Torino. Con Lucio commentiamo la sconfitta della sua squadra contro il Valenza nel big match di quest'oggi. Lucio, siete partiti bene, poi magari vi siete un po' spenti nel corso del primo tempo. Siete ripartiti a razzo nella ripresa e per poco non riuscivate nella clamorosa rimonta guidati da un bottiglia sempre verde e sempre preciso sotto volta. Buonasera a tutti, stasera era una partita dura, era importante per me soprattutto non fare brutta figura, per fortuna non l'abbiamo fatta. Abbiamo lottato contro una squadra forte, ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, ci abbiamo avuto un infortunio, vabbè pazienza, ci può stare, c'erano due gambi all'altezza, ma i ragazzi si sono comportati tutti bene, hanno messo in campo tutto quello che avevano e hanno giocato una gran partita, non posso proprio assolutamente dire niente su nessuno dei otto che sono andati in campo. Certamente giocavamo contro una squadra molto rodata, con un po' più di gamba diciamo, dai! Ok, allora questa è la seconda sconfitta consecutiva per il Torino dopo un buon inizio di clausura Superlega Calcio a 6. Ti chiedo Lucio, da dove deve ripartire il Torino dopo queste due sconfitte? Ma io spero che il Torino riparti invece dalla vittoria fatta col Sassuolo, che ritorni con quella grinta lì, anche se non è mancata la grinta. Sono dispiaciuto molto di più per la sconfitta la settimana scorsa, ma sono venuto a giocare con 6 ragazzi contati e qualcuno che giocava fuori ruolo. E quindi abbiamo pagato contro una squadra esperta, però sono convinto che questa squadra alla lunga riesce, riuscirà a limare quei difetti che ha, perché vedo che si stanno applicando molto e ci hanno voglia di essere protagonisti. Grazie mille Lucio, alla prossima! Grazie, buonanotte! Grazie mille! Grazie.